ecco non era ancora partita si sta avviando potete iniziare ok va bene buonasera benvenuti grazie ai presenti a quelli che arriveranno dopo e chi non è potuto intervenire a questa serata come avete visto la stiamo registrando e poi la pubblicheremo sul canale youtube dell'affiso per chi poi la vorrà vedere differita e eventualmente a rivedere e abbiamo organizzato questa serata che la e abbiamo invitato federica negri e anche un orientista per chi non la conosce una nutrizionista biologa e nell'ambito del progetto fuori classe e stiamo portando avanti con alcune società il progetto fuori classe progetto di sport e salute e abbiamo a cui abbiamo partecipato l'anno scorso e ci invitano ci chiedono di anche organizzare delle serate o delle sessioni sul corretti stili di vita e sulla nutrizione in questo caso abbiamo scelto una serata sulla nutrizione proprio per diffondere e come non solo lo sport ma anche un corretto stile di vita può agevolare e a migliorare il benessere delle persone e in particolare dei giovani quindi abbiamo invitato la dottoressa negri a parlarci di nutrizione in particolare verso direte giovani sportivi quindi adesso io purtroppo non mi posso fermare questa in questa sera e ci sarà vincenzo che vi introdurrà meglio la serata io volevo solo appunto salutarvi e ringraziarvi per tutti quelli che insomma ci stanno seguendo questa sera e ve lo ricorderà anche vincenzo ma tutti quelli che sono registrati alla piattaforma di sport e salute sono iscritti alla piattaforma di sport e salute ci farebbe piacere che si registrassero con il QR code che trovate sulla locandina ve lo ripeterà anche vincenzo sia in introduzione probabilmente anche alla fine perché ci servono insomma anche queste dimostrare che stiamo portando avanti anche un discorso di questo tipo cioè sul monitoraggio di su questi argomenti quindi ma invito anche chi magari non si è ancora iscritto alla piattaforma di sport e salute ma è anche solo curioso di vedere come questa piattaforma funziona non costa niente quindi se se qualcuno ancora non lo avesse fatto e fosse curioso di capire un po come funziona questa piattaforma lo può sempre fare e basta scansionare il QR code che vi manda al link chi è registrato viene direttamente viene direttamente invitato a fare la scansione della serata che invece non è ancora iscritto alla piattaforma viene invitato a iscriversi quindi quel QR code che poi vi ricorderà anche vincenzo comunque vi conduce alla piattaforma di sport e salute io vi saluto e lascio la parola a vincenzo per l'introduzione della serata e quella continuazione grazie Elena scusami vincenzo ti posso interrompere un attimo perché non parte la registrazione collegandomi dal computer sto ancora in metro quindi spero di riuscire a avviarla a brevissimo se avete un minuto di pazienza vedo se riesco a riavare a riavare strano perché Daniele è apparso la scritta che c'è scritta che sta registrando da 17 minuti sì a me invece dice la registrazione sta per iniziare ancora però se voi vedete il bollino rosso che sta registrando no è bianco in effetti prima della scritta la registrazione è stata avviata c'è una un segnale di attenzione di pericolo il punto esclamativo all'interno del triangolino che probabilmente c'è qualche problema sto avviando il computer tra un attimo esattere meglio sì sì va bene va bene va beh però io posso anche non essere registrato l'importante è che venga registrato la dottoressa Federica allora mi accodo alle parole di Elena per sottolineare proprio questa serata e motivarla dal fatto che non è che l'abbiamo ideata noi ma è richiesta nel progetto nel progetto in effetti noi abbiamo scritto abbiamo previsto tre incontri con una particolare attenzione del piano formativo ora questi tre incontri chiaramente sulle tematiche che già accennato Elena noi l'andremo a sviluppare oltre a questa serata anche in altre serate dopo l'estate cominciamo con la dottoressa Negri che come è stato detto da Elena è una collega orientista anche se collega si fa per dire perché lei Federica partecipa ancora alle gare come élite pratica orienteering dal 2005 e e stava nel nel giro della nazionale orientistica e quindi sicuramente ha tanto da comunicarci in particolare su chiaramente la sua specializzazione cioè sulla nutrizione io volevo semplicemente invitare tutti a continuare nella registrazione degli eventi abbiamo necessità di aumentare il numero delle presenze e il numero dei partecipanti e quindi anche durante l'estate specialmente se si ha possibilità di attivare dei camp o la scuola estiva sicuramente sarà importante registrare la presenza e la partecipazione vi invito nuovamente a quindi a utilizzare quel cod anche questa sera e nel ringraziare la dottoressa Federica Negri per la sua disponibilità la invito a presentarci la sua relazione ok grazie Vincenzo mi sentite tutti bene spero al massimo Vincenzo tu avvisami se sono diventata nutrizionista biologa nutrizionista e in particolar modo nell'ultimo periodo mi sono specializzata nell'ambito della nutrizione sportiva sia con atleti adulti sia soprattutto ultimamente con ragazzi giovani quindi adolescenti soprattutto e questa ovviamente l'accostamento attività fisica alimentazione è molto importante in qualsiasi fascia d'età per i ragazzi è quasi ancora più importante perché l'età dello sviluppo è l'età in cui il corpo si forma in cui il corpo deve crescere in modo sano per cui è importante sia che loro imparino a andare a mangiare nel modo corretto sia soprattutto le famiglie che ci stanno accanto che li aiutino in questo in quanto loro sono comunque ancora giovani e molto dipendenti dalla famiglia io adesso farò condividerò con voi delle slide della presentazione prima di partire vi dico già che ci sarà una prima parte un pochino più teorica didattica che magari avrete già sentito avrete già fatto magari visto altre situazioni per cui forse la farò un po più velocemente perché non voglio annoiarvi con appunto con informazioni da libro di scuola ma piuttosto entrare poi nello specifico in ogni caso alla fine di ogni argomento lascio uno spazio per le domande così se avessi detto qualcosa che non avete capito o volete approfondire c'è c'è tempo per farlo quindi alla fine di ogni diciamo capitoletto c'è uno spazio per le domande allora adesso avvio la presentazione poi vi chiedo conferma vincenzo che si veda tutto ok si vede ti chiedo scusa federica daniele sei riuscita a riattivare il computer che ha scritto che è riuscito in chat confermo ok grazie ok mi dai conferma vincenzo che si vede la prima slide col titolo no non ancora ok allora aspetta prima abbiamo intravisto la fine adesso non ancora ah giusto devo farlo da qua adesso sta partendo credo eccolo è partito ok perfetto va bene allora iniziamo qualsiasi cosa vincenzo interrompimi ok allora partiamo prima da un concetto che non è così banale che è il significato della parola mangiare perché la diciamo questa parola questo verbo lo utilizziamo comunemente e non è sbagliato per indicare diverse cose diciamo che c'è una bella differenza tra il mangiare nel significato di alimentarsi che indica puramente il fatto che sto ingerendo degli alimenti quindi che sto mettendo del cibo nel mio corpo indipendentemente dal fatto che il cibo possa essere sano tanto o poco è il gesto tecnico del mangiare dell'alimentarsi che è diverso invece da dal nutrirsi quando si parla di nutrizione di nutrimento di nutrirsi appunto si intende invece introdurre delle sostanze che sono necessarie per la nostra salute per il nostro corpo ai fini proprio fisiologici del dei nostri bisogni fisiologici quindi vivere crescere mantenersi in salute sopravvivere anche non vuol dire che un termine indichi una cosa sbagliata e l'altra giusta perché non siamo umani e al di là delle nostre funzioni puramente fisiologiche abbiamo anche un'anima e delle altre esigenze per cui non è giusto mangiare non soltanto per alimentarsi cioè non soltanto per nutrirsi quindi stare bene ma per pagare anche un'altra serie di bisogni che adesso poi vediamo è tornata ok allora perché si mangia a questa domanda mi sono sentita spesso rispondere diverse cose che ho riassunto le risposte le ho riassunte in questa slide alcune di queste corrispondono al nutrimento quindi al nutrirsi per cui devo crescere mi sento debole voglio essere sano ho bisogno di energia altre invece rientrano in una sfera un po' più complessa per cui mangio perché sono in compagnia mangio perché sono triste perché mi annoio perché ho fame che non è detto che mangio perché l'avere fame sia legato effettivamente al bisogno di cibo immagino che tutti voi abbiate provato la fame nervosa la fame dovuta non soltanto a un bisogno effettivo di cibo ma alla pagare magari una noia questo è molto importante perché come dicevo prima siamo esseri umani e abbiamo anche e non dobbiamo solo sopravvivere ma dobbiamo vivere e circondarci di esperienze per cui è importante che il cibo non sia visto soltanto come nutrimento soprattutto in un'età come quella degli adolescenti in cui la socialità è importantissima ma anche come momento di condivisione per il resto i pasti sono sempre stati i momenti in cui le persone si ritrovano che sia la cena di tutti i giorni che sia il pranzo di Natale che sia adesso finiscono le scuole ci si ritrova per fare la pizzata di fine anno tutto gira intorno a un momento di convivialità che è però legato al cibo quindi è molto importante che non sia visto soltanto come ho bisogno di energia quindi mangio sì giustissimo ma va considerata tanto anche la parte emotiva dell'alimentazione per cui non c'è una corretta definizione devo nutrirmi o devo alimentarmi devo fare entrambe le cose soprattutto ripeto in queste in questa età particolarmente complessa dell'adolescenza o comunque della gioventù a che cosa serve il cibo poi in realtà effettivamente dal punto di vista invece più fisiologico dare energia quindi è la benzina del nostro corpo che ci permette di muoverci di andare a lavorare di studiare di fare attività sportiva indipendentemente che io passi la mia giornata sul divano o a correre tutto il giorno ho bisogno di energia anche soltanto per sopravvivere per fare per le funzioni di base il cibo mi serve per la costruzione e la struttura del mio corpo per cui poi vedremo dopo i vari macronutrienti a che cosa servono le proteine i carboidrati tutti questi macronutrienti hanno una funzione che porta poi a costruire la complessità del nostro corpo e sono necessari tutti protezione e difesa e qua mi faccio riferimento soprattutto a quelli che poi vedremo essere vitamine sali minerali che ci proteggono che oltre a darci a essere essenziali per il funzionamento del corpo ci proteggono poi anche a livello di salute e di immunità e poi quella parte invece che abbiamo visto di cui ho parlato prima la socialità e l'umore che è in fondo ma non vuol dire che sia meno importante allora adesso parto proprio con la parte più didattica che vi dicevo prima quindi se ci dovesse essere intanto qualche domanda vi chiedo subito di fermarmi anche per dirmi parla più piano parla più forte Vincenzo se c'è qualcosa che devo sapere No Mi senti? Tutto a posto? Sì sì Vai avanti Non ci sono problemi Va bene Allora Db soltanto poi se Sono tornata sulle slide Sei ferma? Ora è cambiata? No È sempre l'ultima che hai presentato Ora c'è la piramide Esatto Allora questa immagine Suppongo che l'abbiate già vista tutti Più o meno prima o poi E anche i ragazzi di solito a scuola Si parla sempre della piramide alimentare È un concetto È una piramide ormai che si vede da anni E effettivamente è un concetto che non cambia Non è cambiato negli anni Non è stato aggiornato Se non l'introduzione poi Negli ultimi anni Della base Di questa piramide Che non parte più dal Da quello che È il secondo gradino Per cui quello di Verdura Grassi E cereali Ma è stata introdotta come base Quindi Della piramide alimentare L'acqua e l'attività fisica E il controllo del peso Perché Poi lo vedremo alla fine Cioè lo vedremo più avanti Molto importante È la funzione dell'acqua Che è un alimento Fa parte della nostra alimentazione E spesso è sottovalutata O meglio Spesso si dà poca attenzione Perché non Non ci si pensa Non ci si ricorda di bere È invece fondamentale Così come l'attività fisica Più o meno intensa Non è Non si parla Oggi non si parla di agonisti Non si parla di elite Si parla di ragazzi Che fanno sport Non ci interessano i campioni E poi il controllo del peso Questo però è una questione Proprio di salute Per cui Evitando gli eccessi O i difetti Del peso Salendo quindi Da questo gradino Si passa A quello che è Invece la base Sugli alimenti Cioè la base degli alimenti Che sono Cerali integrali Grassi Oli vegetali Salutari Grassi oli vegetali salutari Frutta e verdura Queste sono Quegli alimenti Che devono essere presenti Nella nostra alimentazione Tutti i giorni Cereali integrali In realtà Anche non Non è Fondamentale Che siano integrali Integrale sicuramente È più Nutriente Ma non vuol dire Che se è Bianco Fa male O assolutamente Vietato Poi magari questo Lo possiamo vedere più avanti Condimenti Quindi Grassi oli vegetali Salutari E si parla di Di olio Sostanzialmente di olio E E poi frutta e verdura Le famose Cinque porzioni Di frutta e verdura In totale Al giorno Poi Salendo Ci sono Quegli alimenti Che vanno Consumati Con Un po' Più di moderazione Rispetto a quelli Sotto Ma comunque Abbastanza Spesso E quindi Abbiamo Pesce Pollame Uova Quindi abbiamo I secondi Le proteine Quindi una volta al giorno Due volte al giorno Porzioni diverse Di Di queste proteine Quindi non vuol dire Pesce tutti i giorni O pollame Tutti i giorni Ma Tra pesce Pollame Uova Legumi Bisogna fare Variare questi alimenti In modo da averli Durante la giornata Poi Salendo Abbiamo i latticini Quindi Formaggi Cioè Latte E derivati Quindi anche Yogurt Tutti i tipi Di formaggi Qui c'è scritto Una o due Porzioni al giorno Ovviamente Questo poi Dipende Dalla Dalla Persona Ma anche Dalle eventuali Intolleranze E Preferenze Delle persone In generale Delle sostanze Che possano Contenere calcio E vitamina D Quindi Ci possono essere Poi Dei derivati Non proprio Del latte Che possono Andare a Integrare Questi alimenti Insomma E infine Sulla punta Della piramide Ci sono Gli alimenti Che vanno Mangiati Occasionalmente E qui Troviamo Le carni rosse Il burro Cereali raffinati Che come vi ripetevo Prima Non va che sono Da escludere Infatti Rimangono La piramide Sono da preferire Quelli integrali Poi abbiamo Bevande Dolci Sale Quindi Quegli alimenti Che non sono Assolutamente Da abolire Però Vanno limitati In generale Nell'alimentazione Tutto Può essere Mangiato Ovviamente Parlando di persone Che non hanno Nessuna Difficoltà A Poter mangiare Tutto Quindi Escludendo Allergie Intolleranze Varie Tutto può essere Mangiato Nelle giuste Dosi Ok Vado avanti Allora Il piatto sano Anche questa è un'immagine Che gira molto spesso È il piatto Che Scusa Federica Dimmi Dimmi Semplicemente Volevo Chiederti Se Il discorso Dell'alternativa Ai latticini Per chi È Intollerante Al lattosio E fa parte Del Tuo programma Oppure Allora Dipende Allora Di oggi Dici Sì Sì Allora Dopo Nel Nella parte Più avanti Andremo a parlare Degli integratori Ed eventualmente Si può Allargare il discorso Ok Diciamo che dipende Nello specifico No Però Nel caso Nel momento delle domande Si Lo vediamo C'è una domanda su questo Specifica Scusami Esatto Ok Che chiede Se ne parliamo dopo Oppure chiede qualcosa di più specifico No Fa la domanda Alternativa Che cosa c'è in alternativa A Quindi io Semplicemente Volevo avvisarti Se fa parte Del programma Chiaramente Ok Nenzi Aspetterà Il momento Della tua spiegazione Altrimenti Tieni presente Che ci sarà Questa domanda Ok Va bene Allora magari dopo Alla fine Ne parliamo Così magari Se arrivano altre domande simili Le facciamo tutte Insieme Insomma Bene Ok Ok Poi Allora Vado avanti Quindi Piatto sano Piatto sano Preferisco chiamarlo Il piatto completo Per cui Il piatto Che è ideale In cui Ci sono sempre Le varie Le proporzioni giuste O comunque Tutte le Componenti Dell'alimentazione Che poi vedremo Qua Questa slide Che sono Carboidrati Proteine Grassi A cui vanno poi Aggiunti Vitamine E sali minerali Che sono I micronutrienti Ma Tornando indietro Allora Nel piatto Ideale Che cosa ci deve essere Sempre Una porzione Di carboidrati Che abbiamo visto Possono essere I cereali integrali Lo vediamo anche Alato Pasta Riso Pane Integrali Anche altri tipi Di cereali Possono andar bene Per cui Non per forza Pasto Riso Ma anche Farro Orzo Altri Chinò Altri tipi Di alimenti Poi Una porzione Di proteine E con proteine Si intendono Generalmente Quello che poi Sono i secondi Per cui Pesce Carne Uova Legumi E formaggi Poi Poi ovviamente Ci sono delle preferenze Tra carne rossa Carne bianca Dopo anche questo Lo riprendo un attimo Dopo E Ovviamente Variano anche Le frequenze giornaliere Le frequenze Settimanali Ci sono alcune cose Che posso mangiare Anche tre Quattro volte A settimana I legumi Se non mi danno problemi Posso mangiarli Anche Un Tre quattro volte A settimana La carne rossa Invece va limitata L'affettato Se possibile Sarebbe proprio meglio Evitarlo Poi se lo mangio Una volta a settimana Non è Non è quello Che cambia La situazione Ovvio che Se tutti i giorni Mangio il panino Con la La sottiletta E il prosciutto È un'altra Situazione È un'altra cosa Quindi Stesso discorso Di prima Tutto può essere Mangiato Se nelle giuste dosi Al primo Al secondo Si affianchiamo Sempre Una contorno Di verdure Quindi Verdure cotte Crude Preferibilmente Di stagione L'ideale Poi è variarle E condire Sia le verdure Che eventualmente Anche il primo Insomma Gli alimenti Del piatto Con Dell'olio L'olio Che Per esempio Sulle verdure È preferibile A crudo Che è L'olio di cottura Ovviamente L'olio Non deve spaventare Perché tante volte Si pensa L'olio È un alimento Grasso Sì certo È un alimento Grasso Perché è molto calorico Ma è un alimento Che ci serve Calorico Non vuol dire Dannoso Calorico Non vuol dire Che fa male Semplicemente Vuol dire Che ci dà Tanta energia Ma l'olio Oltre all'energia Ci dà anche Un'altra Altri nutrienti Che sono fondamentali Ok Poi Importantissimo Sempre Anche qui L'acqua E L'attività fisica L'acqua Si intende Beh qua c'è scritto Con poco zucchero Senza Allora visto che Stiamo parlando Di ragazzi Abbastanza giovani Magari il caffè Non è nelle loro Abitudini Spero Mi auguro Che magari Non ci sia già Una Bisogno di caffè Come magari può essere Negli anni successivi In ogni caso Al di là Dell'acqua Spesso magari In età In cui invece Ci sono le vivite Vivite gasate Che Al di là Della Coca Cola Può essere anche La La Coca Cola Zero Che uno Pensa Che magari È più Sana Perché Ha zero calorie Quando in realtà Contiene tante di quelle Sostanze nocive Che Piuttosto Meglio bere Una Coca Cola Al mese Normale Che bere tutti i giorni Una Coca Cola Zero Perché È comunque Molto dannosa Come le altre Esattamente come Le altre vivite Stessa cosa Vale per i succhi Di frutta Poi magari Anche questo Lo riprendiamo dopo Perché un conto È la spremuta D'arancia In cui Prendo il frutto E lo spremo Io L'ho proprio presa al bar O ho comprato Comunque Spremuto Un conto È comprare Un succo Confezionato In cui Oltre al succo Ci sono dentro Altri Zuccheri Conservanti E quindi Altri elementi Che invece Non Non sono Salutari Per cui Il succo Di frutta Non è L'equivalente Della frutta Assolutamente No Questo L'abbiamo visto Un po' No L'abbiamo già visto La cosa che volevo farvi vedere Che sono degli insieme Con delle intersezioni Perché Difficilmente Pochissimi alimenti Contengono Solo grassi Solo proteine Solo carboidrati La maggior parte Contiene Un po' Di tutto Con una prevalenza Di un tipo Dell'altro Per cui Sappiamo che La pasta Il grano Le patate Il panno Nel primo cerchio Contengono Dei carboidrati Contengono soprattutto Carboidrati Ma contengono Anche un po' Di proteine Così come La carne Il pesce Contengono proteine Non contengono Tantissimi carboidrati Se non Proprio zero Ma Contengono Dei grassi Ok Quindi Ci sono Tutte queste intersezioni Che ci permettono Anche poi Di variare la dieta Più facilmente Allora Adesso Questa parte Magari La faccio Un pochino Più veloce Che è anche Più tecnica Quindi magari Non è necessario Approfondire così tanto Vabbè Carboidrati Abbiamo visti Sono Pane Patate Frutta Riso Ok Impasta Possono essere Complessi O O Semplici I carboidrati Complessi Per esempio Che possono essere Appunto I cereali Integrali Legumi Sono Un po' Più lenti Da digerire Forniscono Però Energia Anche a lungo termine Mentre Carboidrati Gli zuccheri Quindi Carboidrati Semplici Come lo zucchero Per esempio O la frutta Danno Degli zuccheri Più A rilascio Veloce Che possono essere Utilizzati Invece Più facilmente I carboidrati In generale Sono quelli Che ci danno Appunto L'energia Lo zucchero L'energia Proprio Pura In questa slide Invece Si parla Di fibra Alimentare La fibra Che cos'è È una componente Della Di origine Vegetale Che in realtà Noi non Possiamo digerire Nel senso Che non abbiamo Quegli enzimi Che ci permettono Di digerirla Ma Nonostante Ciò È molto utile Perché Il suo Ingerimento La sua assunzione Anche se poi Non andiamo A digerirla Cioè non andiamo A prelevare Dei nutrienti In sé Dalla fibra Ma Ha una funzione Poi durante La digestione Che Cioè durante Il suo Come si dice Il suo passaggio All'interno Del nostro Sistema digerente Che va A portare Dei benefici Tra cui Regolare La funzione Intestinale Per ritardare Lo svuotamento Gastrico Cosa Cosa vuol dire Che La digerisco Più lentamente Per cui Ho Un maggior Senso Di sazietà Perché Rimane Più tempo Nel nostro Corpo E inoltre Molto importante Abbassa La glicemia Quindi Abbassa Il livello Di zucchero Nel sangue Quindi questo Molto importante Soprattutto Poi per chi Ha problemi Di Glicemia Alta Di solito Nei ragazzi Non si Verifica Molto frequentemente Però È sempre Comunque Un Buon Alimento Ok La stessa Di prima Ok Passiamo Alle proteine Le abbiamo viste Ne ho già parlato Un pochino Prima Un po' Velocemente Quindi Sono i secondi Carne Pesce Uova Formaggio Anche un po' I legumi Sono Quelle che Non ci Al di Mentre i carboidrati Ci davano L'energia Le proteine Ci danno La La struttura Ci Termiscono Quelli che Quelli che sono I mattoni Del nostro corpo Vanno a creare I nostri muscoli Vanno a Comporre Le nostre Il nostro Corpo Non solo i muscoli Cellule Tessuti Che poi Andranno A loro volta A Incrementare Anche la muscolatura Sono composti Da aminoacidi Che Appunto Non sono Molto importanti Perché Alcuni di questi Aminoacidi Che sono I mattoncini Diciamo Non sono Non li possiamo Non li possiamo Produrre noi Per cui Devono essere Per forza Assunti Con l'alimentazione Per cui È molto importante Che L'alimentazione Sia molto Varia Soprattutto Sia molto Ricca A livello Anche di proteine Senza esagerare Sempre Ovviamente Tutto va Poi calibrato Ma le proteine Sono fondamentali Così come i carboidrati Così come i carboidrati Ovviamente E anche come i grassi Che vedremo dopo Le proteine si dividono In proteine animali E proteine vegetali Ci sono Diverse Diversi pro E contro Di ognuna Nel senso Che le proteine animali Sicuramente Possono essere Più Nocive Su alcuni punti Come le proteine Derivanti Dalla carne rossa Che poi è la carne rossa In sé Il problema Federica Scusami Non ti sentiamo più Da quanto? Adesso sì No no Pochi secondi Pochi secondi Ok Niente Dicevo che Le proteine Animali Hanno un alto Valore biologico Vuol dire che Hanno Su 100 grammi Di carne O 20 Posso avere Tra le 20 E le 25 25 grammi Di proteine Mentre E che tra l'altro Una volta Vengono assorbite Mentre le proteine Vegetali Per quanto Possono Essere Sulle stesse Quantità Perché se noi Guardiamo Adesso Facciamo un esempio La soia Qui dice per esempio Che ci sono 36 grammi Se guardo anche In generale I legumi Hanno intorno ai 20 grammi Solo qual è il problema Delle proteine vegetali Che la maggior parte Non le assorbiamo Per cui Sui 20 grammi Di proteine Ne assorbo Magari 5 Perché Durante la digestione Vengono perse Durante la cottura Vengono perse Ovviamente i fagioli Non li posso Mangare i crudi Devo cuocerli Nel cuocerli Vengono perse Queste proteine Quindi Quelle animali Sono molto più Disponibili Mentre quelle vegetali No Poi ovviamente Ci sono altri fattori Come dicevo prima Per cui Non possiamo Sicuramente Mangiare carne Rossa O in generale Carne tutti i giorni Pranzo e cena Perché poi Si creerebbero Altri problemi Quindi Vanno Sempre Calibrate Molto bene Tra le proteine Poi troviamo anche Le uova I formaggi L'albume Quindi Già per rispondere Un po' alla domanda Dei formaggi La parte proteica Dei formaggi Che Non è Altissima Per esempio Può essere sostituita Con Le proteine Derivanti Da altri Alimenti Per cui Se non posso Mangiare il formaggio Perché Sono intollerante Al lattosio Posso sostituire Le proteine Del formaggio Con Proteine Dei legumi Della carne Delle uova Oppure Di alcuni Formaggi Che non contengono Lattosio Che in realtà È soltanto Il grana E pochi Altri Quindi Ci sono C'è qualche Alternativa Oltre alle Alternative Vegetali Che Negli ultimi Anni Stanno Prendendo Molto Piede Tra cui Vediamo Anche Segnati Nelle Slide Il tofu Il tempeh Ce ne sono Poi altri Poi L'ultimo Macronutriente Sono I grassi Che hanno Sostanzialmente Una funzione Di riserva Per cui I grassi Servono Per depositare Le riserve Energetiche Sono I primi Nel momento In cui Si verifica Un momento Di Chiamiamolo Digiuno Di momento In cui Non ho Energie Perché non sto Mangiando E con digiuno Intendo Semplicemente Magari Dal pranzo Alla cena Che passano Ad esempio Facciamo finta Sei ore Perché non ho Fatto lo spuntino Si instaura Un meccanismo Di digiuno Quello è già Un digiuno Non sto parlando Di digiuni Di giorni I grassi Sono quelli Che vengono Smossi Dal nostro Corpo Che vengono Depositati E poi Smossi E utilizzati Nel momento In cui Ne ho bisogno Quindi Diciamo Sono La nostra Riserva Energetica Oltre a Questo Hanno Un'altra Altre Grandi Funzioni Tra cui Sono Isolanti Termici Per cui Quando Se voi pensate Soltanto Agli animali Che vivono Al nord Pensate Che hanno Degli strati Di grasso Basti Pensare A Non so Alle foche Tutti quegli animali Che hanno Una Una scorza Molto importante E anche Una bella Riserva Di grasso In più Proteggono Gli organi interni Dagli urti Tutto il nostro Corpo Ha una Strato Di adipe Intorno All'interno Ovviamente Non deve essere Eccessivo Se no Si va incontro Ad altri Problemi Quindi Isolanti Termici Vuol dire Anche se Voi ci pensate Tendenzialmente Persone Molto magre Con Poco Grasso Tendono Ad avere Più freddo Facilmente Non sempre Però Avere Essere Molto Esili In momenti In cui Fa molto Freddo Si sente La differenza Qua si parla Di fonti Di Di grassi Anche tra i grassi Ci sono grassi Migliori Di altri Ovviamente Quelli Cioè ovviamente Quelli vegetali Sono sicuramente Migliori Tra cui appunto Come abbiamo visto Prima L'olio O anche Quelli della frutta Secca Mentre Quelli invece Derivati Da Dagli animali Tra cui Il burro Di formaggi Grassi La carne Rossa Poi qua Parla anche Di Di margarina Che non è Derivata Dagli animali Ma è un derivato Vegetale Ma che comunque Contiene sostanze Abbastanza Nocive Per cui Le fonti Di grassi Positivi Cioè Migliori Sono quelle Derivanti Dall'olio Dalla frutta Secca E parlo di Olio extravergine Olio frutta Secca E anche Pesce Azzurro Quelli invece Più da evitare Sono sicuramente Il burro Il burro La margarina Formaggi Grassi E Carni Rosse Poi come Vi ho detto Prima Ogni tanto Possono essere Inseriti Andiamo avanti Adesso Vediamo I micronutrienti Che sono Delle sostanze Che assumiamo Con gli alimenti Perché appunto Come L'ha visto Prima Alcuni aminoacidi Non le produciamo Non tutte Almeno Allora Queste vitamine Sono tante Adesso Ovviamente Non le vediamo Tutte Sono importanti Perché Svolgono Delle funzioni Importantissime Per il nostro Corpo Le troviamo In tantissimi alimenti Tra cui Soprattutto Frutta e verdura Non solo Ma soprattutto E Ne abbiamo Un bisogno Diverso In base All'età In base Al nostro Stile di vita In base Alle nostre Abitudini Non è detto Che Tutti Abbano appunto Lo stesso Fabbisogno E come c'è scritto Assurgo Poche Ma anche Troppe Può causare Malattie Per cui Non vuol dire Come detto Prima Tutto si può Prendere Con le giuste Dosi Anche In eccesso Non è detto Che una cosa Che fa bene Fa bene Anche se ne Prendo Troppa Anzi Stesso discorso Per i sali Minerali Li introduco Anche Con l'alimentazione Soprattutto Con l'alimentazione Come le vitamine Vengono Indicati Con delle lettere Che Sono gli iniziali Degli elementi Alcuni Possono essere Tossici Alcuni 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 Per niente Dipende Poi Sempre Dalla Quantità In generale Sali Minerali Vitamine Sono Micronutrienti Perché Le Le dosi Di cui Abbiamo bisogno Sono poche Si parla Di Micro Quantità Mentre Quando si Parla Di Macro Si parla Di Grammi Quindi Di Quantità Più Quantificabili Domande Su Questa Prima Parte Allora No domande Siamo rimasti Ancora Alla domanda Vediamo un attimo L'aggiornamento Allora No Siamo rimasti Alla Alla Richiesta Di Alternativi Agli Articini Per chi È Intollerante Alla Toxia Ok Adesso Vedi sempre Scusami Vedi sempre La slide Con le Domande Ok Perfetto Ma allora Come dicevo Prima Le alternative A livello Proteico Sono Sicuramente Quelle che Ho elencato Prima Poi Ovviamente Dipende Da che tipo Di alimentazione Si segue Se si segue Un'alimentazione Di tipo Vegetariano Vegano Ovviamente Le proteine Bisogna Integrarle In altro modo Per cui Vengono A meno Carne Pesce Nell'alimentazione Vegana Anche le uova E quindi In questo caso Anche il latte Per cui le proteine Rimangono Meno Non sono Alimentazioni Impossibili Bisogna Però Fare Molta Attenzione Per quanto Riguarda Appunto La Il discorso Invece Soltanto Di Intolleranza Al formaggio Per cui Tutti gli altri Alimenti Posso Mangiarli Posso Introdurre Il corrispettivo Proteico Con Appunto Pesce Carne Uova Anche legumi Poi Non so Se C'era Una Domanda Posso Fare Io Una Domanda Sì Allora Hai parlato Naturalmente Della necessità Di variare L'alimentazione Sì Spesso Ho sentito Che C'è anche Un problema Di distribuzione Di questa Alimentazione Noi italiani Siamo abituati A colazione A fare Una colazione Dolce Sì Spesso A pranzo Ci Alimentiamo Essenzialmente Con carboidrati E alla sera Eventualmente Con proteine Questa Distribuzione Così Non Chiaramente Così Marcata Ma Che Distribuisce Nell'arco Della giornata I tipi Di alimenti Ma Concentrati In orari Completamente Diversi O essenzialmente Diversi Può essere Una Diciamo Una pratica Positiva O Ha degli aspetti Più Negativi Per Positivi Allora Diciamo Che L'ideale È sempre Riuscire ad avere Tutti questi Tre elementi Quindi Carboidrati Proteine Grassi In tutti i pasti Ovvio Che non è così Semplice Perché Magari A colazione È di più difficile Introdurre le proteine Magari A cena È più difficile Che Magari Si voglia fare Il primo E si mangia Solo il secondo Con la verdura Poi dipende Tutto ovviamente Da famiglia A famiglia In ogni caso L'importante Poi Sicuramente È che Nell'arco Della giornata Venga Mantenuto L'apporto Totale L'ideale Ripeto Potrebbe Essere Che Sia così In tutti i pasti Che può essere In realtà banalmente Anche faccio La colazione Dolce Sì Ma già Se metto Lo yogurt O latte Ho Delle proteine La cena Se non voglio Mangiare la pasta Ma Mangio Del La Faccio L'insalatona Con le uova E Un pezzo Di pane Ho I carboidrati A pranzo Non voglio fare Primo e secondo Posso fare Un piatto unico Quindi Una Pasta Col Pollo Sto facendo Degli esempi Senza fare Senza cucinare Anche per una questione Di comodità Perché E poi E' facile dirlo Ma poi le persone Hanno anche dei tempi diversi Quindi Non so Una pasta Con Del pesce Una pasta Con della carne Un riso Insalata Con il formaggio Quindi Un piatto Unico Cosa succede Se non si fa così Il problema principale È una Questione Proprio Di Ormoni Per cui Nel momento In cui Io Non Introduco Un pasto Prettamente Glucidico Quindi Prettamente Di carboidrati Per cui a colazione Mangio Il pane I biscotti E basta O Il succo di frutta E la brioche E basta Adesso faccio degli esempi Così Tutto il meccanismo Di glicemia E insulina All'interno Del mio corpo L'insulina Causa Il deposito Del grasso E Ho fame Perché Non ho le proteine Le proteine Danno sazietà Per cui Nel momento In cui Io mangio Solo zuccheri Magari Dopo un'ora Ho di nuovo fame Se invece Faccio Una colazione Con Dello yogurt Con dei cereali E della frutta In cui ho tutti e tre Questi alimenti Magari Un po' di frutta secca Così ho anche dei grassi Sicuramente La mia fame È tamponata Redigo più a lungo E poi Non c'è Questo deposito Di grasso Per cui Sembra strano Ma nel momento In cui io mangio Tanti zuccheri Poi deposito grasso Che Sembra un po' Un paradosso Ma il nostro corpo Funziona così Ok C'è un'altra domanda Se Ritieni Ocuno Certo C'è Enzo Che Chiede Quanto Ai grassi Di origine animale Che lei Diceva Da assumere Ogni tanto Quanto Tutto Questo Influisce Sulla regolazione Degli ormoni Testosterone Per i maschi E degli estrogeni Per le donne Per la donna Ma allora Dipende Con Cosa si intende Con Ogni tanto Nel senso che Io con ogni tanto Intendo Non so Carne rossa Una volta a settimana Oppure Adesso Non mi ricordo Quelli Gli alimenti Segnati Che Non so Gli affettati Carne rossa Non vanno A incidere In alcun Cioè Così Con una regolarità Di una volta a settimana Non hanno Un Non incidono Sulla questione ormonale Ci sono Perché Vadano a incidere In positivo In negativo Devono essere Assunti tanto Anche Ma non soltanto Gli alimenti Come la carne rossa Anche alimenti Come la soia Hanno degli effetti Negativi O comunque Che alterano L'assetto ormonale Di Uomini e donne E questo Indipendentemente Dal fatto Che Siano Origini animali O vegetali Ci sono tanti alimenti Che non vanno Per esempio La soia È un alimento Di questo tipo Per cui Magari Non mangio carne Perché Non voglio Questi alimenti Però poi Magari Prendo tutti I prodotti vegetali Aumento Il consumo Di soia E poi Va a incidere Negativamente In altre situazioni Per cui Un'assunzione Settimanale Di questi alimenti Non va a incidere Se La domanda Era sulla frequenza Cioè Su qual è la frequenza Che può andar bene Se ho capito giusto Chiaramente Fa un Riferimento Che lei Diceva Da assumere Ogni tanto Quanto Quanto Tutto Questo Influisce Sulla regolazione Degli ormoni Maschili E femminili No Sull'assunzione Così Settimanale Occasionale Intendo Settimanale Di una Carne rossa Un affettato Non incide Non ha Delle ripercussioni Poi Se Magari Dovesse Voler Chiedermi Quale Più Specifico Magari Me lo Scrive Poi Vediamo Alla Fine Se c'è Qualche D'accordo Comunque È un argomento Abbastanza Complesso Quello Degli ormoni Quindi Anche Magari Le altre Persone Che Magari Non sanno Di Cosa Stiamo Parlando Non vorrei Neanche Cioè Piuttosto Devo fare Alla Fine Se siete D'accordo Bene Ok Vado Sì Prego Ok Veniamo Alla Parte Più Centrale Alimentazione Nel Giovane Sportivo Allora Il nostro Corpo Come dicevo Prima Quando noi Mangiamo È come Senza Rissimo Della Benzina Nella Macchina Se devo Fare Un viaggio Lungo Ne metto Di più Nel momento In cui Finisce La rifaccio Stessa cosa Per il nostro Corpo Ovviamente Sì Qua Stiamo Parlando Di persone Ragazzi Che fanno Sport Bisogna Considerare Questa Cosa Perché Già Un ragazzo Durante La fase Della Crescita Consuma Di più Rispetto Che A un Adulto Un adulto Che ha Un'attività Normale Perché Comunque È il momento In cui Il corpo Cresce Ha bisogno Di Energia Per cui È Importante Controllare L'alimentazione Sia Per quel che riguarda La quantità Ma anche la qualità Ovviamente Quindi non basta Semplicemente mangiare Di più Bisogna mangiare bene In base In base A quello Che è La sua Attività Fisica È Ovvio Che se Il ragazzo In questione Torna a casa Da scuola E si mette Sul divano A guardare La tv Forse Bisogna Fare Il ragionamento Inverso Per cui Non controllare Che non Stia mangiando Troppo Però In quei Casi La cosa Migliore Non è Tanto Farlo Mangiare Meno Ma è Sempre Fargli Fare Attività Sportiva E su Questo Poi Ci ritornerò Perché In questa Fase Della crescita È molto Importante L'attività Sportiva Più che L'alimentazione In sé Nel senso Sono Egalmente Importanti Ma Devono esserci Entrambe Cioè L'alimentazione Ovvio Che è importante Ma Ci deve essere Anche L'attività Fisica Se no Non è Sufficiente In generale Però i ragazzi Di questa età Comunque Sono in movimento Quindi Una cosa Importante È che Al di là Dell'aspetto Agonistico In cui Mangiare In un modo Non adeguato Può portare A un calo Nella performance E nei risultati C'è anche Poi una questione Invece Di Quotidianità In cui Se io non mangio Abbastanza O mangio male Io ragazzo Giovani Intendo Posso essere Stanco Debole Svogliato Perché L'energia Non mi serve Solo per andare In bici O giocare O fare la partita O andare a correre Mi serve anche Per tutto il resto Per cui Anche banalmente Stare seduto A scuola Ad ascoltare La lezione O A casa Studiare Io ho bisogno I ragazzi I ragazzi Hanno bisogno Di energia Nel momento In cui Magari Fanno fatica A mangiare Perché Comunque Ripeto È una fase Della vita Delicata E complessa Per cui Non sempre Si fa attenzione A come si mangia A quello che si mangia Magari Si arriva Poi In un momento In cui Non ci sono C'è poca energia Anche per le cose Quotidiane Che è Lo star attenti O anche semplicemente L'avere La voglia Di uscire A fare una camminata Una passeggiata Incontrarsi Con gli amici E fare un giro Sono tutte attività Che richiedono Delle energie Perché poi I ragazzi Magari Non ci pensano Perché giustamente Pensano ad altro Pensano Giustamente Magari anche Soltanto A esco E faccio un giro Con gli amici E non penso Non ho fatto merenda Normale Va benissimo Capita Però poi Magari Non si accorgono Arrivano a casa Stanchi Magari affamati E mangiano male E questo Non sono i ragazzi Prove Quindi Importantissimo È La frammentazione Dei pasti Del cibo Durante la giornata Partendo Dalla colazione La colazione È un Vabbè La colazione È il pasto È più importante Lo sappiamo tutti La colazione Però sappiamo anche Almeno So per esperienza Che è uno Dei passi Che i ragazzi Saltano Più spesso Perché Si può dormire Dieci minuti In più Perché Non ho voglia Perché Mille motivi La maggior parte Le tre Quando arrivano Quando arrivano a casa Quindi Magari passano Tutta la mattinata A digiuno Oppure Portano Una merendina Confezionata Che Comunque Non fa bene Quindi La cosa La cosa Ideale È Abituare Poi Non sto Parlando Di tutti Ovviamente Ci sono Anche i ragazzi Che invece Amano Far colazione Molto Importante Per i ragazzi La colazione Non dico Obbligarli Ma Fargli capire L'importanza Della colazione E tra l'altro Sempre Per Esperienza In questo campo Una volta Che Gli si introduce La colazione Una volta Che iniziano A farla La fanno Anche perché Si svegliano E hanno fame Perché Il corpo Si abitua A quell'ora Che deve mangiare Per cui Quando Vanno Quando si alzano Hanno fame Poi ci sono Mille soluzioni Per esempio Preparare le cose La sera prima Se non si vuole Perdere tempo A cucinare A preparare La colazione O anche Banalmente Farsi Prendere la colazione Che può essere Un toast Un toast E poi dopo Vediamo come E mangiarlo Dopo Quindi Non è necessario Perdere mezz'ora Per fare colazione Però Non uscire Di casa Stomaco vuoto Colazione ideale Come ben detto Prima Come Ormai Ho ripetuto Un sacco di volte Dovrebbe avere Tutti i macronutrienti Vediamo Non è facile Sulla colazione Perché appunto Noi non siamo abituati A fare colazioni salate Come italiani Non è Nella nostra tradizione Almeno Non Nella maggior parte Delle persone Però Anche In questo caso Visto che Introducendola Poi Piace Soprattutto ai ragazzi Piace Quindi Quali possono essere Delle colazioni Con i coffert Ho messo degli esempi Una colazione Sicuramente Molto saziante Yogurt Cereali Frutta Qua ho scritto Più cioccolato Che potrebbe essere Anche più frutta secca In cui abbiamo Lo yogurt Che Contiene le proteine Cereali Frutta Che contengono Carboidrati Cioccolato Che contiene grassi O frutta secca Che contiene grassi Magari ai ragazzi Lo yogurt Può piacere un po' Meno Finalmente Una Tazza di latte Che contiene Proteine Con pane tostato Con la marmellata Io qua ho scritto La marmellata Potrebbe essere anche Del miele O della frutta O Della frutta secca Ad accompagnare Pane tostato Perché ho scritto Pane tostato Perché rispetto Alle fette biscottate Che ovviamente Sono comode Perché sono lì Le prendi Sono già pronte Tostato Indicativo Può essere anche Pane normale Tostato Perché è più buono Di solito Si tosta Perché è più croccante Ma non è che cambia A livello nutritivo Non cambia Tostato O meno Ovviamente Non le fette biscottate Ogni tanto Sì Però è sicuramente Meglio il pane Un bel pezzo Di pane integrale Un pezzo di pane Con i semi Con il pane Di segale Che contiene Molta fibra Ti sazia molto Di più Di una fetta biscottata Che contiene Anche Molti più Conservanti Grassi E altri Elementi Che è meglio Evitare E poi C'è la colazione Salata Beh in questa foto C'è anche l'uovo Ma Come si potrebbe Fare una colazione Salata Toast Ho scritto toast Ma anche qui Va benissimo Del pane Anzi Molto meglio Il pane Fresco Tagliato Che il pan Carré Confezionato Diciamo che Il confezionato È sempre La scelta peggiore Tra le due Affettato magro Potrebbe essere Della bresaola Della fesa Di tacchino Con del formaggio Anche qui Parlo di formaggio magro Non parlo di Gorgonzola O taleggio Ma magari Della ricotta Accompagnata Dalla spremuta O da un frutto Oppure delle uova Se possono piacere Ovvio che Se non ho voglia Di alzarmi Per fare colazione Non mi alzo A fare le uova E quindi È un'idea Per chi invece Ha più voglia Di mettersi A cucinare Sicuramente La colazione salata È una colazione Saziante Ovvio che Però Non si può fare Colazione tutti i giorni Con l'affettato Perché se no Rientriamo nel discorso Di prima Della carne rossa Dell'affettato E di quegli alimenti Che vanno Mangiati occasionalmente Quindi se un paio Di volte a settimana E metto due fette Di resaola Nel toast Al mattino Va bene Se lo faccio tutti i giorni Un po' meno Soprattutto se poi Magari lo faccio Anche a merenda A cena Spuntini Anche questi Sono molto importanti Anche se in realtà Di solito Vengono fatti Perché poi Appunto Magari non facendo colazione Capita che Si abbia fame A metà mattina Giustissimo Ma gli spuntini Vanno soltanto bene Dipende Da cosa sono Perché Le merendine Confezionate I succhi di frutta Non è che Sono il male Però Stesso discorso Se capita Quella volta Che non ho niente In casa E quindi Prende Il succo di frutta Vabbè Però l'ideale Sarebbe Evitarlo Magari tenerlo Appunto Per le Emergenze E portarli Magari In frutto O dello yogurt O della frutta secca Cioccolato fondente I cubetti Di grana Quindi Questi Sono quelli Più Diciamo Salutari Poi ci può anche stare Quel giorno in cui Mi porto il succo In cui ho la merendina E va bene E così Non è che Non bisogna più mangiare Nulla di confezionato Ogni tanto Può capitare Soprattutto poi Per i ragazzi Che magari Hanno Anche più difficoltà Perché poi Ci sarebbe Da analizzare Anche questa cosa Che non Tutte Non tutti i ragazzi Piace Mangiare Portare le cose A scuola Un argomento Che vedo Con i ragazzi Abbastanza delicato Difficilmente Tante volte Difficilmente Mi dicono No non voglio Portare la frutta A scuola Motivi Diversi Ma Capitano anche Queste risposte Per motivi Penso proprio Di visibilità Poi Pasti principali Come abbiamo detto Prima Nella domanda Che mi aveva fatto Vincenzo Piatti unici Piatto unico È l'ideale Per evitare Di Cucinare Mille cose Magari in casa Sia in cinque Devo cucinare Tre cose diverse Perché uno Non piace una cosa Non piace l'altra Non so Fare i primi Sei secondi Faccio un piatto unico Poi magari Ognuno se lo condisce Come preferisce Qua abbiamo Degli esempi Abbiamo Una Piatto di Pasta Con del pollo Degli straccetti Di pollo Degli pezzetti Di pollo Una pasta Fredda Con pomodoro E mozzarella Un riso Con i gamberetti E zucchine Poi Sempre Il solito discorso Se quella volta Non sono riuscito Perché non ho fatto in tempo Non successe Un giorno Non mangio Carboidrati Proteine grassi Non è che Casca al mondo L'ideale È mantenerlo Poi Il nostro corpo È intelligente Si abitua Se un giorno Mangia meno Un giorno Mangia di più Non è che cambia subito Tende a mantenere Un suo equilibrio Quando Allora Questo è Il riferimento All'allenamento Sì forse non è chiarissimo Quando mangiare Per un ragazzo Che fa attività sportiva Io Consiglio sempre Che il pasto principale Venga consumato Almeno tre ore prima E uno spuntino Un'oretta prima Ovviamente Dipende tutto Da a che ora È l'allenamento E come La sua giornata Perché se torno a casa Da scuola Alle tre E ho l'allenamento Alle cinque E devo pranzare Non farò lo spuntino Perché Sennò Va dall'allenamento Che non ho neanche Finito di digerire il pranzo Quindi Diciamo che Idealmente Pasto principale Tre ore prima Spuntino Un'ora prima Nel momento in cui Ho il tempo Di digerire queste cose Se no Va benissimo Fare solo il pranzo Se pranzo alle tre O alle due Uno spuntino leggero Potrebbe essere Quelli che abbiamo visto prima Domande Su questa parte Sì Allora Ho visto Una mano alzata Non vedo domande Mi confermi? No, non ci sono domande Al momento Ok Va bene Allora vado avanti Appena ritrovo le slide C'è una domanda C'è una mano alzata Eh l'ho vista Se può Maria Teresa Mettere in chat La sua domanda Ok Non so se leggi La domanda Adesso c'è I prodotti I prodotti per celiaci Sono più calorici Allora Tendenzialmente Sì Di solito Non di tantissimo Ma Sì Un pochino Poi in realtà Non è un aumento Significativo Però tendenzialmente La pasta Questi prodotti Sì Infatti In realtà Allora In realtà Rispondono sempre Per la questione Dei prodotti per celiaci L'ideale sarebbe Alternare i prodotti Cioè Sostituire I prodotti Che contengono glutine Con prodotti Che non ne contengono Naturalmente Per cui Piuttosto che prendermi La pasta Senza glutine Meglio che Prendere il riso O altri alimenti Che possono Che non contengono Glutine Poi ovviamente Ovvio che se Voglio mangiarmi Dei biscotti E posso mangiare Solo quelli senza glutine Prendo quelli senza glutine Però sì Hanno Hanno più calorie A livello calorico Però Una questione Solo di Numero di calorie Allora I miei alunni Mangiano un panino Alle 13.30 Prima di allenarsi Sì Nel senso Che Tendenzialmente Dipende tutto Che ora si allenano Un panino Anche lì Dipende con cosa Il panino potrebbe essere Anche con Un pane marmellata Che così Si allenano subito dopo Ok Allora Diciamo che Un panino Adesso non so Con cosa lo mangiano Però Che sia con Affettato Che sia con Della marmellata Che Va bene Ti dà delle energie C'è da dire una cosa Che un ragazzo Di 15 anni Facciamo un esempio Se mangia un panino E poi va ad allenarsi Ha sicuramente Ne risente Sicuramente Meno di Parlo Per noi Più adulti Che Abbiamo la digestione Un attimino Più Lenta Diciamo che Quando si è giovani È anche molto più facile Digerire E allenarsi E allenarsi Avendo digerito C'è chi mangia C'è chi mangia Invece deve aspettare Quattro ore Perché ha una sensibilità Maggiore Diciamo che Comunque Sarebbe meglio Aspettare un pochino E anche Per la questione Dell'affettato Anche lì Diciamo che Sarebbe meglio Variare ogni tanto Ma Per esempio Vedo ragazzini Che mangiano Il panino Con dentro Il pollo Il panino Con dentro Le uova Cioè la frittata Sono cose Sono validissime Come alternative Buonasera Possiamo aggiungere Del burro Al pane Marmellata A colazione Allora Sì Allora Come dicevo prima Il burro Non è Un alimento Particolarmente Sano Ma Come invece Ha detto adesso Si sta parlando Di ragazzi Che comunque Devono crescere Per cui Finché si tratta Di una Di una Come si dice Spennellata Di burro Alla base Un po' di marmellata Sopra Va bene Ti dà energia Per cui Quello va bene L'importante È che Non ci sia Un abuso Ecco E comunque È sempre Meglio Il burro Della margarina Nonostante Sia animale La margarina Contiene Dei grassi Che fanno Scusate Che Fanno davvero male Non entro nel dettaglio Perché Non finiamo più Però Piuttosto Della margarina Il burro A meno che Appunto Uno sia Intollerante All'attrosi Allora Il burro Non lo può mangiare Ok Spero di aver chiarito Queste cose Al massimo Poi me lo scrivete E lo leggo dopo Allora Dammi conferma Che ci sono Con la slide Sì Puoi andare Vai Ok Ok Questo è un argomento Che A cui tengo Sempre molto Perché Come dicevo prima L'acqua è sempre Sottovalutata Scusate La slide È tutta storta Ma Vabbè L'acqua Allora L'acqua Fondamentale Importantissima Forse è quasi Più difficile Per noi adulti Bere Che per i ragazzi In realtà Allora Vediamo un po' L'acqua È considerata Un alimento Cioè È ufficialmente A livello Legislativo Un alimento Nel senso Che è stato proprio Inserito come alimento Non apporta calorie L'acqua Non ha Non dà energia Ma contiene Delle sostanze Che comunque Ci servono Per cui Oltre a Idrogeno Ossigeno La molecola Dell'acqua Che conosciamo tutti È una soluzione Di minerali Per cui Ci apporta Dei nutrienti Per cui È un alimento A tutti gli effetti Si trova In tutti gli alimenti Poi Ci sono gli alimenti Che ne contengono Tanto Come la frutta Alimenti Che ne contengono Poco Come gli affettati Perché sono disidratati Perché comunque Hanno subito Dei processi E il nostro corpo È composto Come ben sappiamo Da un'alta percentuale D'acqua Che va a ridursi Durante l'età Cioè nell'età Per passare Degli anni Per cui Tra un neonato E un anziano C'è una diversa Componente D'acqua Infatti Basta vedere Come è tirata La pelle Di un anziano Rispetto a Come è quella Di un bambino Però questo Soltanto a vista Si capisce Però Appunto per questo È anche importante Che man mano Che si cresce Si faccia più Attenzione All'acqua Al bere Allora Quali sono Le funzioni Dell'acqua Al di là Del placare La nostra sete L'acqua L'elenco Molto velocemente Dà tonicità Alla pelle Trasporta Nutrimento E ossigeno Perché L'acqua Compone Tutte le nostre Vie Sanguigne Linfatiche Fa parte Di tutto Il nostro corpo Quindi facilita La circolazione Protegge Gli organi Perché comunque Fa Uno spessore Anche L'acqua Regola La temperatura Corporea Importantissimo Elimina Le tossine Migliora La digestione L'assorbimento Regola La temperatura Elimina Le tossine Poi lo vedremo Vediamo Se riusciamo a vedere Anche con la Questione del sudore Per cui Nel momento in cui Faccio magari Movimento O fa caldo Io sudo Elimino Tossine E acqua Per cui E' poi importante Rintrodurla Quanta acqua bere Allora Si dice Sempre Almeno Un litro e mezzo Due al giorno Dipende ovviamente Che cosa faccio Nella vita Se lavoro Tutto il giorno In fabbrica A 30 gradi Al chiuso Ovvio che Ho bisogno Di più acqua Ma in generale C'è sempre un minimo Diciamo che Un litro e mezzo Due Può andar bene Anche troppa Acqua Non va bene Se bevo 6 litri 7 litri D'acqua Al giorno Non va bene Perché i miei reni I reni Che sono gli organi Che filtrano Che sono deputati Alla filtrazione Risentono Di troppa acqua Ok Quando Allora Qui c'è scritto Un bicchiere d'acqua Ogni ora L'ideale sarebbe Non bere Un litro Al mattino E un litro Alla sera In poco tempo Ma Trazionarla Durante la giornata Allora È una cosa Importantissima È questo Che C'è scritto qua Che quando noi Avvertiamo lo stimolo Della sete In realtà Siamo già disidratati Nel senso che Lo stimolo Chimico Fisico Della sete All'interno Del suo corpo Avviene quando Il corpo Già È in stato Di disidratazione Per cui Noi dovremmo Evitare Di arrivare Ad avere sete Ovvio Che Ed estate È più facile Che capiti Perché Si suda di più Fa più caldo Quindi si suda E quindi È più facile Avvertire La sensazione L'ideale Appunto Sarebbe Bere prima E prevenire Questa Questa sensazione Anche perché La disidratazione Ha Molti Effetti negativi Al di là Dello sport Perché ovviamente Se faccio sport Devo bere ancora di più Perché Se faccio attività fisica Sudo Di più Ancora E quindi Devo integrare i liquidi E in più A livello anche Agonistico E di prestazione Il caldo Fa una grossa differenza Per cui Essere ben idratati Migliora anche poi La performance E indipendentemente Da questo Sul nostro corpo Che siamo sportivi O meno La carenza d'acqua È ovviamente Un fatto Un fatto Nocivo Un evento nocivo Ok Domande Intanto Vi dico già Che con acqua Si intende Acqua naturale Acqua gasata L'acqua gasata Non ha Grosse Non ha Controindicazioni Non fa Ingrassare Non fa Non gonfia Tutte queste cose Che ogni tanto Si sentono Nei Succhi Nelle Nelle Sì Nelle bibite Ovviamente L'acqua c'è Ma Non è Quello Di cui Stiamo Parlando Perché Oltre all'acqua Ci sono Un sacco Di altre Tanto Guardo Ci sono Un sacco Di altre Sostanze Zuccheri Coloranti Quindi anche Bere il Gatorade Quando fa caldo Sì Ok Può capitare Ogni tanto Però Molto Prodotto Contiene Anche Poi Zuccheri Quindi Bisogna Vedere Coloranti Quindi Non è Detto Che Cioè Non è La soluzione Ideale Diciamo Che è sempre Meglio Prendere Acqua Normale E aggiungerci Dei sali Se ho Bisogno Di sali Tanto Sto Guardando Se c'erano Domande Non mi Sembra Ok Va Bene Quindi Torniamo Qui Allora Questo È una Brevissima Parte Che ho Messo Perché Comunque Se ne Parla Tanto Se ne Parla Soprattutto In Ambito Sportivo E Quindi Volevo Fare Un po' Chiarezza Allora Gli integratori Gli integratori Sostanzialmente Di per sé Non sono Il male Non sono Il bene Quindi Cosa sono? Sono dei prodotti Che vengono Utilizzati Per Integrare Quindi Per andare A Completare L'alimentazione La normale Alimentazione Di solito Contengono Delle Sostanze Che vengono Normalmente Che sono Normalmente Contenute Negli alimenti Per cui Non vanno Ad apportare Sostanze Che normalmente Non troviamo Per questo motivo Non sono Indispensabili Se una persona Mangia Correttamente Non dovrebbe Aver bisogno Di integrare Se fa Un'alimentazione Ben strutturata Come c'è scritto Qui Vengono Consigliati Nei casi In cui Vi è un Deficit Di sostanze Nutrienti Perché O per un Ridotto apporto O per un Aumentato Fa bisogno Cosa vuol dire Che se Io soffro Di anemia Per cui Ho una carenza Di ferro Genetica È giusto Che io Integri Con del ferro Che poi Possa essere Un integratore O un farmaco A seconda Della gravità Della mia Mancanza di ferro È giusto Farlo Perché Per stare Meglio Per aumentato Fa bisogno Vuol dire Che se Adesso vi faccio Un esempio Se io sono Un giocatore Di rugby Professionista E consumo 10.000 Calori al giorno Voglio vedervi A mangiare 10.000 Calorie in un giorno Sono davvero Tante E il tempo Di mangiarle E di digerirle Non c'è Per cui Non sto parlando Di persone Comuni Sto parlando Di atleti Che fanno Sport a livello Agonistico Molto impegnativo In quel caso Spesso Parte dell'energia Viene presa Con dei integratori E lì Per una questione Proprio fisica Che non c'è Tempo e modo Di introdurli Se non così Non è detto Che sia La soluzione Più salutare È una soluzione Data Dall'esigenza Sportiva Che però Non è il nostro Caso Perché adesso Stiamo parlando Di persone Che fanno Sport a livello Normale Non sono farmaci E non fanno miracoli Non sono farmaci Gli integratori Possono essere venduti In farmacia Non c'è bisogno Della prescrizione Possono suggerirle Possono consigliarli Tutti Se ovviamente Ho una Carenza di vitamina D O ferro Molto grave Allora prendo un farmaco E in quel caso Me lo dà il medico E in quel caso Avrà bisogno di esami Che lo Confermino Di solito Cosa si integra Le carenze Più comuni Sono quelle Vitaminiche Vitamina D Vitamina C Vitamina B12 Soprattutto Nei vegetariani Ecco Un altro motivo Di integrazione Può essere Un tipo di dieta Per cui Non mangio Carne Non mangio pesce Quindi ho Un apporto basso Di vitamina B12 Lo integro Con Con integratori Va bene Poi A livello sportivo Spesso si utilizzano Proteine in polvere Per lo stesso motivo Che vi dicevo prima Amminoacidi Altre alimenti Altre sostanze Come si assumono Di solito Sono per lo più Compresso capsule A volte gocce Spesso la vitamina D È in gocce E ovviamente È importante Però Assumerli in modo corretto Quindi Quando Ce li consigliano Appurarti Che Chi ce li abbia consigliati Sappia di quello Che sta parlando Cioè che non sia Il mio vicino Di casa Che me lo dice Me lo urla dal balcone Perché L'ha sentito Alla tv E E poi Quando Alcuni vanno presi A stomaco pieno Altri a stomaco vuoto Quindi Insomma Non sono farmaci Ma non si scherza Anzi Quindi Quello che dicevo Servono davvero Dipende Spesso È sopravvalutato L'utilizzo Di integratori Perché Basterebbe Semplicemente Mangiare bene Per evitare Queste carenze Ci sono dei casi In cui Per motivi Come abbiamo detto Prima Genetici O di necessità È necessario Integrare Come abbiamo detto Prima Carenze L'abbiamo visto Prima Ma In una situazione Di salute Con Un'alimentazione Equilibrata Non c'è motivo Di utilizzare Gli integratori Perché Possiamo Ricavare Tutti i nutrienti Da quello Che Sono gli alimenti Che ci circondano Ok Questa era Una breve Parentesi Che ci tenevo A fare Vedo Se c'è Qualche domanda Dai Nensi Scrivi pure C'è una Mano alzata Allora Nensi Sì Guardo Quale dopo La chat Allora Vediamo Un attimo No Ho sbagliato No Ho sbagliato Ok Ho dato Il microfono A Nensi Ok Nensi Se vuoi Vuoi fare La domanda Non ci sente Facciamo così Nensi Se vuoi scrivere In chat Intanto Vado un attimo Avanti Che Ho le ultime Due cose Da dire Ci stiamo Avvicinando Adolescenti Che hanno Cominciato A fare palestra Hanno anche Cominciato A prendere Biberoni Di proteine È dannoso Allora Ti direi di sì Nel senso Che tante volte C'è questo collegamento Faccio palestra Prendo proteine In età Adolescenziale Io Evito sempre Di dare integratori Che siano proteine Che siano vitamine Tendo a preferire A non consigliarli Ma perché Soprattutto i ragazzi Che non hanno Di solito Non seguono Diete Vegetariane Vegane A cui può mancare O evitano degli alimenti Al massimo Quello che può Capitare di dare Delle vitamine Perché non mangiano Frutta e verdura Ma le proteine Soprattutto Biberoni Di proteine Come dici tu Sì è dannoso Perché magari poi Non le prendono Nel modo giusto Perché un conto È una persona Che è seguita E quindi Io ti faccio Un piano alimentare E ti metto Le proteine Mancanti Che vedo Che tu non riesci A raggiungere Con la tua alimentazione Te le integro Come proteine Se invece Si fa un fai da te E indipendentemente Da quello che mangio Prendo i miei due Misurini di proteine Che sono tanti Non va bene Perché poi Vanno a Danno effetti Negativi sul corpo E soprattutto È molto Diseducativo Per il corpo Perché cosa succede Le proteine in polvere O gli aminoacidi Sono Diciamo Dei prodotti Passatemi il termine Premasticati Cioè io li inserisco E vanno in circolo Motivo per cui Si prendono Però cosa succede Che il mio corpo Si abitua anche A non fare Quella fase Di digestione Che è importante Per cui se io Mi mangio Il mio Pollo Adesso dico pollo Anche se ci sono Sicuramente Alimenti più Salutari del pollo Prendo il mio pollo Il mio corpo Lo digerisce Lo minuzza Lo trasporta Fa tutto un processo Che con le proteine Non fa E non è educativo Per il corpo In età dello sviluppo Quindi assolutamente Dannoso Non ti dico Sia dannoso Ma Lo sconsiglio Adolescenti Sì Nella fase Dello sviluppo Meglio evitare Sempre Qualsiasi tipo Di Integrazione Esterna Poi Ti parlo Di adolescenti Che non si sono Non hanno ancora Finito lo sviluppo A vent'anni È un altro discorso Purtroppo Le proteine E le palestre Hanno questa C'è questo binomio Che sembra Che se non prendi proteine Non diventi grosso Non è vero Perché Non sono le proteine Che fanno il muscolo Ma Sono anche le proteine Ma non per forza In polvere Ma soprattutto È l'allenamento Quindi Diciamo che Spesso vengono un po' Vendute come La formula magica Come stavo prima La pillola magica Che ti fa diventare forte No Ok Penso di avere risposta E Vado avanti Con l'ultimissimo argomento Che in realtà Ho aggiunto alla fine Per cui Se vi interessa Lo faccio molto brevemente Anche perché Le dieci e mezza Vi Non L'alimentazione E patologie Adesso qua Ne ho elencate Tante Ma prenderò in considerazione Solo quella Che può Riguardare gli adolescenti Perché mi auguro Che nessun adolescente Soffra di osteoporosi O altre patologie Elencate qui Queste sono Queste sono quelle Legate all'alimentazione Che possono essere Sia causate Dall'alimentazione Ad esempio Un diabete Può essere causato Da una malnutrizione Oppure Altre patologie Allora Mi sarebbe piaciuto Anche affrontare Fisica Che psicologica Alle spalle Il problema È che Nell'ultimi anni L'obesità È aumentata Tantissimo Soprattutto nei giovani E soprattutto Anche in Italia Perché noi siamo Abituati a vedere In America Che sono Molto obesi Ma anche in Italia Non siamo da meno Qual è il problema Di Qual è il problema Di questo Questa situazione È che Per cui L'ho collegata oggi Che la maggior parte Dei motivi Per cui I ragazzi Adolescenti Sono obesi Non è solo Perché mangiano tanto È perché Non fanno Attività sportiva E questo Purtroppo È sempre in aumento Nel senso Che i ragazzi Sono sempre Più sedentari Perché L'attività fisica Nelle scuole Tante volte Viene ridotta Anche a livello Proprio di Educazione fisica Soprattutto Magari in alcuni Non c'è Come c'era prima Lo sport Non è Non è più Visto come Poteva essere visto Anni fa E soprattutto C'è Molto meno movimento Se una volta Una volta Parlo di Vent'anni fa Non chissà quando Ci si spostava Tanto Adesso È tutto più vicino È tutto più facile È tutto più raggiungibile I ragazzi Sono molto più sedentari Non tutti Ovviamente C'è anche Dall'altra faccia Della medaglia Che ci sono anche Molti ragazzi Invece molto sportivi Però diciamo Che Manca un po' La via di mezzo Che è Il fare sport Il fare sport E fare attività fisica E poi Ci aggiungi L'alimentazione Scorretta Il junk food Le bibite È facile Che ci sia Questo aumento Di peso E Fortunatamente Adesso C'è un po' Più di attenzione Per cui Anche nelle scuole Vengono messe Non so Adesso Come Come la situazione A livello di Macchinette Merendine Però io Già Negli ultimi anni Vedevo Che c'era Un'attenzione A dare la frutta Non so Anche alle scuole Elementari Portare Dare la frutta Merenda Quindi Vedo Ho visto Che c'è Un'attenzione Migliore Nelle scuole Superiori Già I ragazzi Sono più autonomi Per cui Non è difficile Che magari Escono da scuole Vanno a prendersi Un kebab Ma non è Non è quello Che fa L'obesità Assolutamente È La La somma Di tutte Queste cose Ma allora Io Su questo Concluderei Nel senso Che la parte Dopo Va un po' Troppo Per le lunghe Scusa Federica Mentre ci Ci avviciniamo Alla conclusione Vorrei Condividere Il QR Code Con chi Non è Ancora Quindi Possiamo Puoi Continuare Con La tua Chiusura Della Relazione Proietto Si vede Si Adesso si Ecco Per la Registrazione Alla partecipazione E quindi Vi invito A farla Adesso Se vuoi Concludere Sì No Dicevo Che Mi Fermerei Qui Con Comunque Di cose Ne ho dette Tante E Lasciare Spazio Le domande Questa Questione Di disturbi Dell'alimentazione È molto importante Soprattutto Direi Nell'età Adolescenziale Ma Ultimamente Si sta Abbassando Anche Alle Alimentari Quindi Con disturbi Alimentari Si intendono Sì L'obesità Ma anche Quelli che sono Poi La bulimia L'anoressia Il sovrappeso Normale Normale Tra virgolette Che Sono dei temi Molto Delicati Che Se Affrontati Vanno Trattati Con più Tempo Però Sicuramente È molto Importante Che si Faccia Molta Attenzione Perché Poi Vanno A Ovviamente A creare Dei disturbi A livello Di salute Che poi Uno si Porta Magari Dietro Per anni E anni E anni Bene Federica Io Non ho Segnalazioni Vedo Non so se Nancy Ha Ancora La mano Alzata Oppure È dovuto Alla precedente Domanda Perché L'avevo Segnalata Comunque Non c'è più Non c'è più Ok Va bene Allora Io Ti ringrazio Veramente Tanto Grazie a te Grazie a voi Della stenzione Spero di Non avervi Annoiato No no Anzi Sei stata Molto chiara E quindi Mi ha meravigliato Un fatto Se mi permetti Non sei stata Molto Diciamo Con delle indicazioni Che spesso Vanno in contraddizione Ad altre indicazioni Cioè non hai focalizzato La tua attenzione Su una tipologia Ben precisa Di nutrizione Di alimentazione Mi riferisco in particolare Ai vari tipi Di Diete Che vengono Spacciate Per Diete Eccellenti Ma sappiamo Ma sappiamo benissimo Che qualsiasi Dieta Ha Delle problematiche Legate poi Al modo In cui viene Assorbita Viene Chiaramente Consumata Questa Questa nutrizione Quindi Anche perché Ogni corpo Ha un metabolismo Che sicuramente Incide Naturalmente Non è Che Una alimentazione Può essere Data Per Tutti E per E per Tanto tempo Bisogna sicuramente Calibrare E No certo E poi Secondo me In questa fase Dello sviluppo Appunto La varietà È la cosa più importante Non focalizzarsi Sulla dieta Da Sportivo Da Vegetariano Ma Che ci sia Tutto quanto Passami il termine La classica dieta Mediterranea Ma Allargata E varia Per cui Non ci devono Essere Alimenti Non va bene Eliminare Un alimento A meno che Non ci sia un motivo Per cui farlo Per cui Ovvio che Se io sono Intollerante All'attosio Il latte Non lo bevo Il lattosio Non lo consumo In generale Come ho detto Più volte Tutti gli alimenti Nella giusta dose Possono Far bene Come tanti altri Possono fare male Se In eccesso Anche L'insalata Se ne mangio Tre chili Non fa bene Non è che Se è una cosa Salutare O Poco calorica Allora posso Mangiarne quante ne voglio Anche l'acqua Non è che posso Berne In quantità Industriali Quindi tutto Va Dosato Ok Allora Io Interrompo La condivisione Del QR code Perché qualcuno Mi segnalava Che Ah ecco C'è riuscita E quindi posso Chiudere La mia Ok Sì sì E Credo che a questo punto Non ci resta che Ringraziare Chi Ci ha ospitate A casa sua Questa sera È stata In nostra compagnia E Chiaramente Ci Auguriamo Auguriamo a tutti noi Anche un buon periodo Di riposo E di Riprendere Le nostre attività Appena possibile Grazie Ok Grazie a tutti Grazie mille Per l'attenzione Buona sera Grazie Grazie a tutti